Il punto di svolta in un accordo che sembrava già concluso, fece andare i nerazzurri a tutta furia. Basta andare in giro. L'unico che ci ha reso una brutta figura è lui. E a questo punto. Francesco Sessa Bitternes. Disappi Pointman. La notizia del chiaro rallentamento dell'accordo Samarzic ha gettato la maggior parte dei fan della disperazione. Il tema ha disegnato in pochi minuti. Anche perché sono stati giorni in cui i nerazzurri attendono il trasferimento ufficiale di Lazara a Milano. Instead. Niente le carte cambiano sul tavolo e tutto si ferma. Per ora. Ora dimmi come un club dovrebbe reagire davanti a questi giochi di denaro quando tutto è stato fatto. Dovrebbe cadere di fronte alle condizioni del nuovo padre agente quando un accordo era già lì? Ah bene. Se è così bella personalità del tuo. Queste sono le parole di un fan. Negativo il discepimento viaggia rapidamente sui social network. Il padre di Samarzic crea una società ad hoc scaricando il procuratore che aveva concluso la. Negoziazione con l'Inter. Ci è stato anche messo. O ancora tuttavia. Nonostante Samarzic stimi come giocatore. Che cade in stile allucinante. La maggior parte di questi talenti è scarsamente gestita dalla famiglia. In breve il comportamento del padre agente non è andato affatto ai fan dell'Inter. Da bambino. Si diceva che le famiglie fossero la rovina dei loro figli nelle scuole di calcio perché erano. Allenatori. Oggi si sono evoluti i pubblici ministeri lo sono e sono ancora la rovina dei giocatori. Titoli su Twitter c'erano molti impaziente interplayers. E quindi ora deluso troppo classe. Non ci eravamo abituati. Pensa quello che vuoi. Ma in questa storia è l'unico a fare una brutta figura Samarzic. E questo punto spero che nascondano un'offerta.